A Disney Junior è l'estate dei pirati e delle principesse. Puoi essere chi vuoi tu, nell'estate dei pirati e delle principesse a Disney Junior. A Disney Junior è l'estate dei pirati e delle principesse a Disney Junior. A Disney Junior è l'estate dei pirati e delle principesse a Disney Junior. A Disney Junior è l'estate dei pirati e delle principesse a Disney Junior. A Disney Junior è l'estate dei pirati e delle principesse a Disney Junior. A Disney Junior è l'estate dei pirati e delle principesse a Disney Junior. A Disney Junior è l'estate dei pirati e delle principesse a Disney Junior. A Disney Junior è l'estate dei pirati e delle principesse a Disney Junior. A Disney Junior è l'estate dei pirati e delle principesse a Disney Junior. Perché, oh Lord, we are longing for the day that when Jesus will come, He will take us to Heaven and we live with Him eternally. Lord, bless the program today, especially the coming baptism at 1pm. That we will see, oh Lord, that Heaven would be rejoicing. To see one soul accepting You as her personal Savior. Thank you for blessing the church and all our worship today would boil down to your glory and your honor. We pray in Jesus' name. Amen. Wait, 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 wait. Hold on a second. Three? What's with the three? No, no, no. The three has got to go. Timon, you can't use two. There's already been a two. Ooh, you got a point there, big fella. It's not a sequel anyway. Yeah, more like a behind the sequel. A what, a whoquel? Oh, you know. An in-between-quel. That's it. Pumba, my muse. It's genius. There. Now this title's a knockout. Ow! Not literally. Ready for a delicious discovery? New Pure Foods Shrimp Tempura. 100% real seafood goodness. Ready to serve in minutes. Pure Foods Seafood Delights. Ready for a delicious discovery? New Pure Foods Tail-on Shrimp. 100% real seafood goodness. Ready to serve in minutes. Pure Foods Seafood Delights. Coming soon on videocassette. Coming soon on videocassette. Coming soon to videocassette.